Rup, 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 wild drag race. Se vi piace giocare, sono pronta per voi. Il mio abito è rosa, proprio come la mia anima. Glamour elegante e nello stesso tempo aggressivo. La salona piemontese ha prodotto negli studi stronzette. Sono Electro Bionic, ho 27 anni, e mi sono Piemontese. Se non posso ispirare amore... ...causerò terrore. Farida è algida, bellissima, irraggiungibile e non prevedibile. Avan ha questo look un po' retro, un po' anni 50, però quando vuole sa trasformarsi in una vera Shura Glam. E in mezzo a tutta questa povertà sono venuta a portare un po' di ricchezza. ventagli, piume, vestaglie di lusso, gioielli, pariurra. E questo è solo un assaggio di Lerish. Mi disegnano come una stronza, ma non è così. Io sono la regina delle stronze. Ciao, io sono Luticia Lubamba e sono la Drap Queen più pagata d'Italia. Grande e bello, ma Enorma è proprio la taglia giusta. Sono Enorma Jean e sono la Shura più giovane di tutta Italia. Scusate, ma chi sono queste? Non avevate detto che ero sola? Sono Ivana Vanzo, vengo da Arezzo e sono... Sono. Oh mio Dio. Le ho ordinati là, da quella parte. Benvenute, mie Priscelte. Siete le otto fortunatissime scogliattoline che parteciperanno a questa prima edizione di Drag Race Italia. Fuori, fuori, fuori. Priscilla, Priscilla. Hello, hello, hello. No, no, chi si può credere? Ragazze, quello che mi interessa non è che siate delle streghe, che siate delle regine, delle ragazze di periferia, delle piccole fiammiferaie. Quello che mi interessa è che crediate nelle favole e che siate favolosi. Vi aspettano giorni faticosi, agguerriti, ma si spera molto divertenti. Oh mio! Adoro! Iniziamo a darci bacini, quei bacini falsissimi. Io li avrei già staccato tutte le parrucche. Penso che mio padre scoprirà quello che faccio grazie a questo programma. Mi ha davvero iniziato! Tu sei tornato! Ehi, cretine che mi hai fatto! Avete scelto proprio bene? Bravi, complimenti. Affilate le unghie, cotonate le parrucche e stirate le vostre mutandine contenitive. La gara sta per iniziare! Una vera drag deve anche sapersi cucire un abito da solo. Qualcuna cadrà sotto lo sgambetto di un'avversaria, qualcun'altra cadrà sotto la mannaia di design, si intende, mia e degli altri giudici che insieme a me stringeranno l'imbuto di queste puntate fino ad incoronare la prima Italia Snacks Drag Queen! Benvenuti per la prima volta sul main stage di Drag Race Italia! E mi raccomando, non facete stronzato!